Volevo dire, perché prima mi sono dimenticata che volevo menzionare il dottor Baglioni, perché il dottor Baglioni è stato poi in realtà la base anche di tutto questo, perché è il signore che ha riordinato l'archivio con un lavoro di tre anni, perché la subintendenza poi ci ha aiutato, ci sono sostenuti, con la dottoressa Inzabato che è stata donna generosissima con noi e poi ci portò il dottor Baglioni il quale con tre anni di lavoro ha aperto più di 200.000 carte guardando che cosa porterebbe. Quindi oggi noi diciamo grazie al dottor Baglioni, volentieri, dopo me lo presta però.